La Sandra batte, torna in campo dopo la sosta nazionale e cade contro Pistoia. Il match, valido per la ventitresima giornata nel campionato di Serie A di Futsal, è terminato con il risultato finale di 5-2 sul parquet del Palacarrara. Per la squadra di Frattini, doppietta di Roni e Ghina e il gol di Belluni. Centri di Alex e Botta a favore di Irpini. Per la formazione di Piero Basire, la settimana sarà doppio derby. Martedì tappa contro la Feldieboli. Le volpi di Salvo Samperi esultano tre volte. Tre come le reti griffate da Vavà, Venasio e Guillermanno, che servono in rosso-blu per domare 3-2 la L84 al settimo torinese nel primo match della storia del futsal, trasmesso in diretta anche su un profilo ufficiale di un club. Un risultato pesantissimo, visto che in un colpo solo scavalcano il Kamedosson, Nafrago sull'isola nell'anticipo contro il redditivo Meta-Catania e al secondo successo di fila dopo l'esonero di Carmine e Tarantino, ma soprattutto sorpassano proprio l'Olympus Roma, salendo al secondo posto in classifica da soli, con una gara in meno, a meno 3 dalla capolista Napoli, che ha lo stesso numero di match degli ebolitani. Partenopei di scena contro la Sandra Bate, sabato 18 marzo. Grazie a tutti.